Domani sera finalmente prenderà avvio la tanta attesa stagione teatrale di prosa al Teatro dei Serbi. Otto appuntamenti importanti con attori di fama nazionale, ai quali si aggiungeranno anche importanti rassegne musicali e la rassegna tutti insieme a teatro rivolte più piccoli. Il sipario domani si alzerà sulla commedia Coppia aperta, quasi spalancata, scritta da Dario Fuo e Franca Rame che vedrà protagonista la simpatica e brava Chiara Francini. La soddisfazione di questa amministrazione è quella di aver appreso che gli abbonamenti quest'anno sono andati quasi a ruba, sono aumentati del 105% rispetto alla stagione teatrale passata. Questo è indice che si preannuncia una stagione bella, importante, ricca che possa quindi soddisfare anche il pubblico esigente. Ma non dimentichiamoci che il nostro teatro a Guglielmi è sempre nel pensiere di questa amministrazione e quindi benché il Teatro dei Serbi sia un bel teatro e sicuramente quest'anno la stagione teatrale potrà svolgersi con grande efficienza, con grande fruibilità da parte del pubblico. Posso approfitto di questa occasione per assicurare tutti gli appassionati di teatro che a fine novembre inizieranno i primi lavori a Guglielmi. Quindi non posso che augurare a tutti buona stagione teatrale e buon divertimento.